Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese deliberati dalla Giunta Camerale della Camera di Commercio di Brindisi. Il primo intervento è finalizzato a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale. Saranno concessi infatti i contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi bancari, per esigenze di liquidità, consolidamento delle passività a breve e investimenti produttivi. Il secondo intervento è invece finalizzato a favorire la digitalizzazione delle imprese, accompagnandole nella transizione e rivoluzione digitale. Saranno concessi i contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni e servizi tecnologici rientranti nella categoria impresa 4.0, oltre che per sistemi di smart working e telelavoro, realtà aumentata e realtà virtuale, simulazione di integrazione, soluzioni tecnologiche e digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita, connettività a banda ultra larga, che sono solo alcuni degli argomenti chiave della rivoluzione digitale e della ripartenza. Il terzo intervento è infine finalizzato a supportare e favorire, attraverso la concessione di contributi sempre a fondo perduto, dell'adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19 e di incentivare la partecipazione delle imprese del territorio a interventi formativi legati allo sviluppo delle competenze organizzative, gestionali e digitali. I bandi sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brindisi www.br.camcom.it nell'apposita sezione Start Brindisi. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 26 giugno.